Sarebbe stupendo io e lui vesti così Aspetta Ellen devi fare la foto Mentre pisciamo la foto Non ho mai pisciato con un premio Oscar 3, 2, 1, ok, perfetto Grazie, grazie Ellen Thank you Signore e signori, Rosario Fiorello Rosario, successo incredibile Viva dai due, per me Viva dai due, per me Viva dai due, per me Viva dai due Ma non lo sapevo io Ma veramente Ma è stupenda sta cosa Aspetta Laura No ma It's a big surprise for me Grazie, ma che bella roba Penso a lei la potrà raccontare sta cosa premiato Uno matto Mi ha fatto fare la pipì a mio marito Come stai? Very good, thank you Tu parli un po' italiano, vero? Un po' ma non molto Non come te Perché te parlo italiano L'unica cosa che so parlo Anch'io con l'inglese So my wife is half-americana My wife It's my wife It's like With the hand It was scared When it's scared It was My wife Viene Ellen No, no, no You are the star No You are the star You are the star The recipient of the award You are the star Dame Helen Mirren Ti consegna Mamma mia Che emozione ragazzi Dov'ai? Helen Ce l'hai portato Helen C'è stasera che spettacolo Grazie Helen Thank you very much Thank you very much Grazie Vorrei Vorrei fare come ha fatto Preziosi Alzare il premio così Ma queste danze vuoi Se alzo così mi rimane Ci provo Grazie Devo dire Ovviamente condivido questo premio Con chi si è svegliato con me Tutte le mattine Verso le quattro e mezza Cinque Circa duecento persone Adesso non faccio nomi Perché se no Fai un torto a qualcuno Ma veramente tutti insieme Era questa sorta di Di rito collettivo Che voi Traduci Traduci Che Taylor deve sapere Che noi facciamo un programma La mattina in the morning Very presto Very presto Very presto E lo facciamo in mezzo alla strada Tu pensa che facciamo una strada Che si chiama Via Siago Che in questo momento Pensate a Via Siago C'è la mia faccia Con scritto Io non posso entrare Mi hanno dato il daspo Per cui ora Qualcuno mi chiede Lo rifarete? Dipende Dipende dalle riunioni condominiali Che faremo adesso I vertici Rai Nuovi Perché tra l'altro La difficoltà di questo programma È stata che ci hanno cambiato Tutti i vertici della Rai Tutti Mentre eravamo lì Parlavo con il direttore generale Dico Allora Tutto a posto facciamo il programma Scusi un secondo Mi sono girato Ce n'era un altro È la Rai Di Italian Television E adesso c'è questa roba Che stanno andando via Tutti Avete visto Sta succedendo addirittura La Berlinguer Che se ne va a Mediaset Ragazzi È come vedere Crosetto Non so Al Gay Pride Sono cose che uno Immaginate voi Crosetto Al Gay Pride Vestito da indiano Dei Village People Che fa Young men Succede una cosa Ladurso Che viene in Rai Cioè in questo momento Se uno ha il badge Di Canale 5 Può entrare in Rai Cioè non si capisce più niente E noi siamo lì In balì A questi A questi eventi E quindi Non si sa Che cosa succederà Io spero di poterlo rifare Però Se non si dovesse Mi dispiace Pazienza E ci diamo appuntamento Per i prossimi 20 anni Perché fra 20 anni L'ultimo premio Flaiano L'ho preso 20 anni fa È vero Viva Radio 2 Avevo i capelli Vianni 2002 Tutti scuri Ero un giovane virgulto Mai avrei pensato Mai avrei pensato Ma tutti lo sanno Perché il premio Flaiano Dopo 20 anni Scade E allora Allora Lo devi rinnovare E infatti Sono qui E me l'hanno rinnovato Quindi grazie Grazie a tutti di cuore È stato veramente molto bello Grazie Grazie Ellen Grazie Taylor Thank you very much Thank you Grazie Grazie Rosario Signori E per la gioia di tutti Abbiamo finito E l'ultimo applauso Io lo farei A Martina Grazie Grazie Rosario Brava Brava Grazie 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 Dave Helen Mirren Al prossimo anno Grazie 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 Grazie.